L'iniziativa importante è quella che la provincia sta portando avanti, ossia l'enoteca provinciale, ma non si troverà soltanto del buon vino? No, no, l'idea è infatti proprio questa, di abbinare al vino in prevalenza e con preferenza il vino prodotto nella provincia di Salerno, obbligatoriamente dovrà esporsi questo vino, dovrà essere offerto al pubblico questo vino, ma in realtà l'idea che la provincia ha avuto, che è un'idea nuova, innovatrice rispetto a quello che solitamente si è fatto, è che si realizzerà un'enoteca che in realtà è un luogo dove le persone, i giovani, chiunque voglia potrà andare a degustare i prodotti della nostra provincia di Salerno. E cosa si abbina meglio al nostro buon vino, anche all'ottimo vino che viene prodotto nel Vallo di Diano? Per esempio, se non i formaggi, i tanti formaggi, le tante varietà, i nostri caciocavalli che vengono realizzati in queste terre. Per poi non parlare degli insaccati, di quant'altro noi facciamo di realmente buono, anche il pane, io mangio quasi sempre il pane che prendo solitamente a polla. E voglio dire, dobbiamo fare tutti quanti promozione di questi importanti prodotti, la provincia dà immediatamente un proprio primo contributo con questa idea dell'enoteca provinciale. Poi continueremo in realtà e avrete occasione di verificarlo perché abbiamo in mente in ognuno dei nostri monumenti storici della provincia di Salerno di cercare di creare dei luoghi dove si possano esporre e promuovere i prodotti anche della nostra enogastronomia.